Ed è una vettura interessantissima e gira anche lui sui 43, quindi attenzione, una vettura granata in terza fila, Moivet Lewis, Van Aiken, Gili Verde con Portogalli che non cedero, davanti subito! Vadelmaier, Valkyrie, Anacleto, Vadelmaier, Valkyrie, Anacleto, Moivet Lewis, partito benissimo dalla terza fila e già in quarta posizione con il prota arcobaleno, quindi un timer. Ah, vettura in fiamme! Vettura che dica a stiammezzare! Fortunatamente si è fermato perché incominciava ad avere un principio di centro piuttosto diffuso, andiamo a vedere, è tutto sotto controllo! Vadelmaier, Valkyrie, Anacleto! Vadelmaier, Valkyrie, Anacleto! Vadelmaier, Valkyrie, Anacleto e Mario Bost! Che Mario Bost! Se riesce a liberarsi di Oxveiler può andare a cazzo dei primi! Lo spagnolo ieri ha fatto veramente vedere grandi cose, adesso gira all'interno l'attacco di Oxveiler! Non riesce ancora a passare, deve ritentare Oxveiler! all'aria di Maria Boscia all'interno passa con 142 adesso va in canta di Bergwitz mi piacerebbe vederlo davanti per un semplice motivo non che siamo amici personali ma l'abbiamo visto molto bene ieri ed era interessante da vedere buona magia assolutamente no Walshman ha il piede sotto è una grande esperienza ma Thomas Anacleto è passato brutalmente il gioco al titolo il gioco al titolo ma del Bayern davanti adesso del mirino il santo Bert Lewis cerca di resistere e Maria Boscia ha sbagliato al salto i due i due veramente per i colpi di Maria Boscia all'esterno vediamo se riesce sì perché si travesse nel frizz oh ma sono andati in più la posizione in più la pittura 43 e 6 il passo di Milan è questo quindi i francesi in questa specialità più profusamente sono diventati fenomenali e questo in Francia succede in Italia meno ma dai che chi ci si colpa con 731 Martellano gara anonima la sua Bert Lewis si ritira intanto andiamo a passare e iniziare l'ultimo giro mettiamo il tempo perché ci interessa 43 e 57 com'azza all'esterno ormai l'ha massacrato il suo direttore 44 e spazio per 2 Maria Boscia in 4 posizioni purtroppo la rimonta è dura adesso anche perché siamo nell'ultimo giro che Maria Boscia ottima la sua prova partito dalla terza fila e Anacleto questa volta Thomas va a vincere il bello stile davanti a due personaggi come Battlemaya e Paul Smith grande di Maria Boscia quarta posizione lo spagnolo for your designer